E a misura che Gesù attaccava l'ipocrisia degli scribi e dei farisei, il suo seguito tra gli ebrei aumentava. E aumentava anche l'opposizione di coloro che egli condannava. Un giorno nel Tempio Gesù vide una povera vedova che offriva due monetine di rami. Così poco! Non puoi dare di più? Io vi dico che quella povera vedova ha messo più di tutti gli altri! Perché tutti gli altri hanno messo nelle offerte parte del loro superfluo! Mentre lei, nella sua miseria, vi ha messo tutto ciò che le rimaneva per vivere!